vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast 14 in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org in nomine patris et fili et spiritus sancti amen carissimi fedeli l'unico scopo della vita umana è la nostra santificazione per questo siamo stati creati per nient'altro che questo il signore ci dà 80 o 90 anni di vita normalmente solo per questo se noi arriviamo alla fine dei nostri giorni e non siamo ancora santi abbiamo fallito la santità è la perfezione della carità ossia la perfezione dell'amore sovrannaturale nel senso assoluto dei termini la santità la perfezione della carità la perfezione dell'amore sovrannaturale è solo dio stesso dio è la santità dio è la carità e dio che è la santità e la carità ci comanda di essere santi anche noi siate santi perché io sono santo dice il signore quattro volte nel libro del levitico ma cosa è la santità per noi cosa è la perfezione della carità per gli uomini nostro signore gesù cristo risponde nessun uomo ha un amore più grande di questo di dare la vita per i suoi amici parla della santità parla della perfezione dell'amore per un uomo per noi esprime la santità in termini di quell'atto che lui ha compiuto da uomo per salvare il mondo questa è dunque la santità per noi dare la vita per i nostri amici per quali amici per dio stesso perché dio è il nostro più grande più caro e amorevole amico è in un certo senso il nostro unico amico perché lui ci ha creati ci conserva in esistenza ci ha dato e ci dà tutto ciò che siamo e che abbiamo ci ha redenti con la sua passione la sua morte e vuol dare tutto a noi cioè se stesso e per sempre dobbiamo dunque dare la nostra vita per lui in primo luogo e in assoluto e poi dobbiamo dare la nostra vita per il nostro prossimo questo in secondo luogo e in modo relativo perché amiamo il prossimo solo in dio e a causa di dio questo di fatti è il soggetto del comandamento nuovo del signore che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato così amatevi anche voi gli uni gli altri questa stessa perfezione dell'amore viene insegnata in due altri testi particolari della scrittura il primo testo è amerà il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso il secondo testo è quello dei dieci comandamenti di cui i primi tre stabiliscono l'amore per dio e gli altri sette stabiliscono l'amore per il prossimo chi mi ama dice il signore che è nei miei comandamenti per spiegare meglio ciò che sono i dieci comandamenti bisogna sapere che non solo vietano ciò che è peccato ma che anche ci incitano alla perfezione della carità e di fatti lo scopo della vita umana non è solo di evitare il peccato soprattutto il peccato mortale per poter raggiungere il cielo bensì di perfezionarci come ho detto all'inizio di questa omelia per raggiungere quel grado di gloria in cielo che dio ha stabilito per noi prima della creazione del mondo vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org www.radionomalibera.org www.radionomalibera.org